Anima e spirito, seconda parte, il dettaglio. Questo è il tema di quest'oggi. Vi avevo promesso in passato di vedere più da vicino il discorso dell'anima e spirito e volevo farlo quest'oggi. Allora, siamo d'accordo che abbiamo tutti una tridimensionalità, anima, corpo e spirito, riflette quello che è poi l'immagine di Dio, trio in uno, uno e trino. Però quando si parla della differenza fra anima e spirito, lì le cose diventano più nebulose. Perché? Perché tanti di noi lo usano in una maniera intercambiabile, pensando che siano la stessa cosa, quando in realtà invece non la è. Andiamo a vedere un attimino più da vicino il dettaglio. Se vi ricordate Gesù parla a Nicodemo, il capo dei farisei, una sera dicendogli che quello che è carne è carne e quello che è spirito è spirito. Lui deve rinascere spiritualmente per riuscire ad accedere al regno dei cieli. Per cui già lì fa una netta distinzione fra le due cose. E in più, Cristo parlando la donna samaritana, nel capitolo successivo del Vangelo di Giovanni, dice alla samaritana che lei un giorno adorerà in spirito e verità. Perché? Perché dice Dio è spirito e quelli che l'adorano devono adorarlo in spirito. E tu vuoi dire, Peppo, cos'è la grandissima differenza qua? Dai, anima, spirito, non stiamo a vedere le cose così dettagliate. Ma c'è una grande differenza, c'è una differenza fondamentale. E vorrei spiegarla, perché ci sono delle scritture che risaltano questo discorso e anzi sono eccitato a condividerle con voi. Una prima scrittura la troviamo in primo Tessalonicesi, quando Paolo scrive alla chiesa di Tessalonaica dicendo, or il Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente e l'intero essere vostro. Lo spirito, l'anima e il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Vediamo che Paolo qua fa una distinzione netta fra spirito, anima e corpo. Se vi ricordate, nell'ultima puntata avevo descritto il discorso dell'anima che è la residenza delle nostre emozioni, anima come psiche, dove sviluppiamo il nostro carattere, sviluppiamo le nostre esperienze. E questo è un qualche cosa che ci connette come esseri umani l'uno con l'altro. Perché? Perché è una dimensione orizzontale. Mentre invece il discorso di spirito, cioè di numa in greco e roach in ebraico, è proprio questo respiro, questo seme che Dio ci mette dentro, questo spirito che ci vivifica, che è una cosa prettamente verticale. Noi verso Dio e Dio verso di noi. E il suo spirito è quello che vivifica questa cosa in noi, che se non è resa viva, come diceva Cristo a Nicodemo, non ci permette di connettere con Dio nella maniera appropriata. E allora lo scopo di Dio di crearci con un'anima e uno spirito è proprio questo, che attraverso lo spirito noi riceviamo quello che è la sua essenza e attraverso l'anima orizzontalmente lo trasmettiamo a quelli che ci sono intorno a noi. Nel Vangelo di Luca Maria dice queste parole, che conosciamo perché sono famosissime, dice l'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore. Allora vediamo appunto la differenza, che prima lo spirito di Maria esulta in Dio e poi la sua anima cosa fa? Magnifica il Signore. Il suo spirito è pieno di gioia, questa gioia viene comunicata, viene manifestata poi attraverso la sua anima a coloro che sono intorno a lei. Anche qui netta differenza fra le due cose. Per cui vediamo come il nostro spirito diventa il ricevitore di quello che è l'identità di Dio e la nostra anima diventa il trasmettitore di questa essenza agli altri, viene comunicata agli altri. In teoria questo è semplice, in pratica è tutto un altro discorso. Perché dico questo? Perché abbiamo un problema. Quando nasciamo la nostra mente viene formata attraverso la nostra educazione, per cui si forma il nostro pensiero. Spesso viviamo attivamente secondo questo pensiero. E poi sperimentiamo una vasta gamma di emozioni, per cui reagiamo secondo queste emozioni. In base ci si reagisce a secondo di quello che si sente. E poi sulla base di ciò che sentiamo e ciò che pensiamo formiamo la nostra volontà e prendiamo decisioni in base a questa. E questo è il vivere secondo l'anima. E possiamo fare anche qualcosa di buono, però se Dio non ci ha vivificati, questa diventa solamente un'espressione del nostro essere a livello di anima. Stiamo esprimendo noi stessi. Quando siamo salvati in Cristo, il suo spirito viene a vivere in noi e lui vuole che noi si agisca secondo questo spirito che viene vivificato. Per cui durante la giornata abbiamo un'opzione. Possiamo vivere secondo l'anima o possiamo decidere di vivere secondo lo spirito, che è Cristo in noi. Tu potresti chiedere giustamente come faccio a sapere se sto vivendo nell'anima o nello spirito, se mi sto comportando attraverso l'uno o l'altro. E questo discernimento viene solo attraverso la parola di Dio. In preghiera, con la sua parola, possiamo ottenere esattamente questo discernimento. Ed è per questo che Paolo, quando scrive, dice questo. Infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante fino a dividere, che cosa? L'anima dallo spirito, le giunture dalle midolla. Essa giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Vediamo qua che appunto Paolo descrive esattamente lo scopo della parola di Dio, che entra e riesce a discernere quale sia uno e quale sia l'altro. Se sai di operare nell'anima perché il tuo spirito ancora non è stato vivificato, o se lo spirito è stato vivificato però tu non lo stai alimentando, basta una preghiera. Nel primo caso di riconoscere che il Signore Gesù Cristo è morto per i tuoi peccati, è morto per i miei peccati, affinché noi si possa essere resi vivi attraverso il suo sangue. E questa è una semplice preghiera, di riconoscerlo come Signore Salvatore, di chiedergli di entrare dentro di noi e chiedergli anche di riempirci del suo Spirito Santo, affinché si possa agire attraverso il suo Spirito e non più attraverso la nostra natura. È come se tu avessi acquizzato un telefono, un cellulare nuovo, sei eccitato, cerchi di fare i numeri e non c'è nessuna risposta. E finalmente un giorno prendi quella sim, la inserisci e tutto a un tratto. Questo cellulare fa quello che dovrebbe fare. È la stessa identica cosa. La mia preghiera è appunto che se non sei stato ancora vivificato attraverso quella sim, tu possa farlo. Ragazzi, vi voglio bene, lasciate dei commenti se volete vedere da vicino qualcosa nel dettaglio, fatemelo sapere e piuttosto appunto che mandare commenti in privato, e tanti di voi lo fanno, lasciatelo direttamente sul canale YouTube. Alla prossima e buon weekend. Ciao!